I carabinieri della Compagnia Palermo-Piazza Verdi hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Palermo su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di un uomo di 53 anni di nazionalità rumena già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso una comunità del Trapanese ritenuto responsabile di strage.